Una decisione presa in pochi secondi, l'obiettivo è di salvare il figlio dalla calca. Giornate terribili quelle di metà agosto di quest'anno a Kabul, i talebani stanno entrando, gli americani se ne sono andati lasciando loro la strada libera, l'incubo di un nuovo regime spinge moltissimi alla fuga disperata, talmente disperata da lasciare un bambino di due mesi nelle braccia di un estraneo, ma del resto l'entrata è a poco più di 5 metri ed erano in tanti in quelle ore a passare i neonati al di là del muro. Poi però i talebani iniziano a respingere la folla e i tempi per entrare si allungano così quando Mirza e Suraya riescono a raggiungere l'aeroporto Sohail è scomparso. È stato portato via dai talebani, è finito nelle mani di qualche trafficante, i genitori restano per ore e giorni senza risposte e pieni di rimorsi per aver affidato a un estraneo il loro figlio minore. Pochi giorni più tardi vengono imbarcati su un volo per Doha a destinazione finale, Fort Bliss in Texas, ma Sohail non è con loro. Di Sohail, come di altri bambini scomparsi, evidentemente qualcuno non si è preso cura abbastanza. Ora da Washington assicurano che il caso è stato segnalato a tutte le agenzie coinvolte, comprese le basi degli Stati Uniti.